Dario ha già fatto adesso una brevissima panoramica che però fa capire quanto sia vasto il tema il tema solgenizio quindi cercheremo di focalizzarci su alcuni aspetti e alcuni momenti della sua vita e della sua opera quindi per cominciare io però vi chiederei di fare questo sforzo qua immaginate di essere un ufficiale, un capitano dell'esercito sovietico del 1945 quindi quando mai la guerra sta per essere vinta e di non credere in niente se non nello Stato e nel partito e di avere fatto tutta la propria vita e tutta la propria trafila all'interno di ciò che lo Stato sovietico prescriveva quindi giovani pioniere, gioventù comunista, l'università fatta in un certo modo quindi pensate di essere un uomo nato nel 1918, 11 dicembre in questo caso di essere stato all'università a Rostov nel caso di Solgenizin, fisica e matematica, laureato con il massimo dei voti di essere diventato ufficiale, di aver chiesto di andare al fronte, di essere stato nel 1943 nel 1943 di essere stato insegnito dell'ordine della guerra patriotica, poi promosso capitano nel 1944 poi insegnito dell'ordine della stella rossa e poi il primo febbraio 1945 proposto anche per l'ordine della bandiera rossa che era uno dei massimi per gli ufficiali dell'esercito, questo è il primo febbraio poi immaginate il 9 febbraio di essere arrestati dal controspionaggio dell'esercito per alto tradimento per aver scritto in una lettera, anzi forse in più di una lettera ad un amico che era Nicolae Viktievic, che era un amico d'infanzia, di aver scritto delle critiche che comunque rimanevano all'interno della concezione comunista a Stalin immaginatevi questa cosa qua e adesso vediamo scritto e descritto da lui che cosa vuol dire perché vuol dire arrestato, portato dal fronte nella plussa orientale dove si trovava a combattere portato attraverso un viaggio che lui descrive anche in arcipelago Gulag anche bislacco, anche proprio grottesco per certi aspetti era lui che guidava le guardie dell'NKVD che lo stavano portando a Mosca perché non sapevano bene dove andare e di arrivare alla Lubianca cioè la Lubianca è un nome che forse molti di noi hanno in testa perché era il carcere centrale dell'NKVD a Mosca i metodi che venivano utilizzati in questo luogo, in questi luoghi fanno una certa impressione qui nel primo volume di Arcipelago Gulag sono descritti in un modo impressionante ma tutto questo è importante capire che ha sempre tutto quello che accade ha dei presupposti e dei principi ha delle verità false, capovolto e poi menzognere poi le vedremo nel dettaglio che giustificano tutto dice in quell'anno di funesta memoria sta parlando del 1937 è in un suo rapporto divenuto celebre in ambienti riservati Andrei Januarevic-Vicinski in uno spirito di flessibilità dialettica ricordò che l'umanità non potrà mai stabilire una verità assoluta questa può solo essere relativa partendo da lì egli fece il passo al quale i giuristi metafisici non si erano decisi nei 2000 anni precedenti una verità stabilita da un'istruttoria e un tribunale non può essere assoluta ma solo relativa onde, firmando un ordine di fucilazione non potremo comunque mai essere assolutamente certi di mettere a morte un colpevole lo saremo solo in un certo grado di approssimazione date certe supposizioni e in un certo senso onde, la deduzione più ovvia le ricerche di prove già che tutte le prove sono relative sono un'inutile perdita di tempo come pure quelle di testimonianze anche in dubbia già che possono essere contraddittorie le prove di colpevolezza sono relative approssimate il giudice istruttore le può trovare anche senza testimoni anche senza uscire dal suo ufficio basandosi non solo sulla propria intelligenza ma anche sull'intuito di partito sulle forze morali ossia sui vantaggi di un uomo riposato sazio e non sottoposto a botte e sul suo carattere ossia la propria brama di crudeltà questo è ciò che spiega nel profondo ciò che accadeva in questi ambienti e qui spiega io faccio solo dei brevissimi cenni dei metodi che venivano utilizzati per indurre le persone restate a firmare la confessione già pronta quindi si veniva arrestati si dice di notte perché l'opera diretta stroncare le anime si svolge principalmente di notte perché di notte strappato al sonno il detenuto anche quello che non è ancora stato torturato con l'insonnia non può essere non può essere equilibrato è ragionevole come di giorno è più maneggevole poi c'è il tentativo di persuadere attraverso la blandizia poi attraverso il turpiloquio dice spediente semplicissimo ma può agire assai bene su persone educate raffinate e di delicata costituzione poi il contrasto psicologico improvvisi volta faccia essere estremamente cortesi durante l'intero interrogatorio o una parte e poi rivolgersi al detenuto chiamandolo per nome patronimico quindi come si usa in Russia e poi di punto in bianco minacciarlo col fermacarte o con altro e dargli dello sporcaccione dirgli che merita una parotola di 9 grammi nella nuca poi c'è l'umiliazione preventiva nei famosi sotterrani della GPU di Rostov al numero 33 sotto gli spessi vetri del marciapiede i detenuti in attesa di interrogatori erano costretti a sdraiarsi boccone nel corridoio comune per diverse ore col divieto di sollevare la testa o di emettere qualsiasi suono poi qualsiasi elemento atto a sgomentare il detenuto l'intimidazione il metodo più in uso e il più variato spesso combinato con alle tanti promesse naturalmente false la menzogna i giochi sull'affetto per i familiari funziona benissimo anche con gli arrestati in attesa distruttoria è addirittura la più efficace delle intimidazioni con l'affetto per i cari si può stroncare qualsiasi uomo impavido potrei continuare veramente a lungo ve ne leggo solamente un paio di altri a seconda delle condizioni locali c'è il box che può essere sostituito da una fossa divisionale usata nei lagri dell'esercito durante la grande guerra l'arrestato è spinto in una fossa profonda 3 metri da diametro di 2 circa e vi rimane per alcuni giorni e notti sotto il cielo aperto magari sotto la pioggia gli fa da celle e da cesso 300 grammi di panni al giorno e l'acqua sono calati con una cordicella immaginatevi in una situazione simile per di più appena arrestato quando tutto vi ribolle ancora dentro penso di un altro metodo che veniva utilizzato era quello dell'insonnia il box delle cimici già menzionato dice in un armadio fatto d'asse si fanno moltiplicare al buio centinaia forse migliaia di cimici si toglie la giacca o la maglia del detenuto e subito cadono su di lui dalle pareti e dal soffitto le cimici affamate da prima gliele combatte canitamente le schiaccia su di sé sulle pareti soffoca dal puzzo come da qualche ora si è ficcato e si lascia bere impunemente il sangue poi il carcere di rigore e via discorrendo quindi questo è solo l'istruttoria quindi poi viene il campo di concentramento il campo di correzione Solgenizio impassa attraverso questo tutto questo che descrive perché l'ha visto e perché gli è stato raccontato Arcipelago Gulag che come dicevamo prima è fatto da tre volumi di questa di questa mole questo è solamente il primo è dedicato a 227 altri detenuti dei campi di concentramento dei lager dei lager sovietici che hanno fornito materiale a Solgenizio per 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 scriverlo quindi questa è un'opera di una di memoria di memoria collettiva comunque alla fine di tutto questo nel giro di pochissimi mesi Solgenizio viene condannato a otto anni di campo correzionale siccome è un è un intellettuale è un è un è un laureato in fisica in matematica passa attraverso quella che viene definita chiamata la Sarasca e cioè il primo cerchio della detenzione c'è un un romanzo che come diceva prima Dario non sono mai corti quelli di Solgenizio è alto così che si intitola nel primo cerchio e racconta la vita dei detenuti in questi in questi campi di correzione o meglio il primo cerchio di campi di correzione che venivano riservati ai detenuti utilizzabili dal punto di vista tecnico intellettuale e quindi lavoravano in questo modo e quindi venivano mantenuti meglio rispetto a chi poi invece proseguiva scendendo di girone in girone ci rimane per quasi 4 anni 3 anni e mezzo e poi viene inviato al campo di correzione vero e proprio nel 1949 a Eki Bastuz in Kazakistan nel frattempo la moglie chiede e ottiene il divorzio il che era una cosa normalissima per 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 quei tempi perché era probabilmente uno era probabilmente era uno dei modi attraverso i quali i familiari potevano cercare di sopravvivere alla persecuzione che si stendeva a tutta la famiglia a tutta la famiglia dei detenuti e qui in in questo in questo campo di Eki Bastuz che è il lager vero e proprio nasce l'idea del racconto sulla giornata di uno zek i zek erano i prigionieri i prigionieri politici di cui parleremo poi che verrà pubblicato come un racconto lungo un romanzo breve a secondo di come lo si vuole giudicare che è una giornata di Ivan Denisovich che è l'opera che rende il suo genizio popolare in tutta l'unione sovietica e poi non solo nel frattempo si ammala di tumore allinguine viene operato nel campo di concentramento e termina la pena nel 1953 nel 1953 termina la pena e viene mandato sempre in Kansakistan a Kok Terek che è un piccolo villaggio in soggiorno in soggiorno obbligato dove scopre che il tumore si sta espandendo viene ricoverato in ospedale gli danno tre settimane di vita in realtà riesce a sopravvivere e nel 1956 è sostanzialmente un un uomo libero per quello che è possibile esserlo in un in un mondo come quello come quello che abbiamo visto io cerco di andare per tappe saltando una serie ovviamente di passaggi e di anni perché non non ce la faremo comincia a a scrivere il comincia a scrivere e il scrive una serie di racconti scrive in in questo periodo il una giornata di Ivan Deniso che porta al direttore di Novimir una rivista letteraria che si chiamava Tartoschi porta questo racconto che poi magari vediamo un momento più nel dettaglio che non è la denuncia dei lager e del sistema del gulag gulag non vuol dire lager gulag è una sigla che si chiamava direzione generale dei sistemi di campi di correzione quindi non è la denuncia che poi troveremo nelle opere successive è esattamente la descrizione della giornata di un di uno Jack Ivan Denisović che racconta quello che accade senza nessun commento questo racconto viene esaminato dal direttore di Novimir da Tartoschi viene esaminato dalla redazione è un problema perché è un'opera letteraria di alto livello però è un'opera letteraria che parla di ciò di cui nessuno prima aveva parlato nell'Unione Sovietica nel frattempo Stalin è morto al potere c'è Khrushchev che nel famoso ventiduesimo congresso del partito comunista denuncia i crimini staliniani a Khrushchev serve avere anche un supporto culturale intellettuale dunque un'opera come questa diventa quasi vitale per questo chiamiamolo nuovo corso questo corso khrushcheviano quindi dopo una serie di pensamenti di ripensamenti è Khrushchev stesso che ordina la pubblicazione di Ivan Denisovich siamo nel 1962 è impressionante il vedere ricostruire poi perché non allora non si era non si era visto anche se Solgenizzi ne chi stava attorno a lui aveva percepito che era accaduto qualche cosa di importante e che da lì non si poteva più tornare indietro quantomeno lui non poteva più tornare indietro nell'Unione Sovietica c'è una sorta di risveglio il giorno stesso il giorno stesso della pubblicazione della rivista che si vendeva nelle edicole ci fu il tutto il tutto esaurito dovettero ristamparlo e ricostruendo poi c'era gente che andava all'edicole sapeva che c'era una rivista in cui c'era un racconto che parlava dei campi di concentramento dei lager non sapevano chi fosse l'autore non sapevano chi era la rivista non sapevano bene e dicevano ma c'è quella rivista quella dove si dice la verità cioè dove si dice la verità e gli edicolanti sapevano quindi davano questo giornale che effettivamente è andato a ruba e ha provocato in tutto il paese un moto di di orgoglio impressionante e impensato e credo anche probabilmente ingestibile da parte del sistema del sistema politico quando nel 94 Solgenizzi è tornato in Russia e ha fatto una serie di incontri con 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 i lettori con le persone ne aveva fatti a centinaia da allora c'era un c'è stato un compagno di prigionia che è andato a una conferenza un incontro di questi e poi ognuno poteva raccontare la propria vita la propria testimonianza e lui ha detto io sono figlio di un deportato che è morto nel lager mia mamma a sua volta è stata arrestata deportata ed è morta io stesso sono stato nel nel lager e quando sono uscito ero una larva ricordo però che quando è uscito novimir con una giornata di ivan denisovic ho letto questo racconto ho scoperto che l'aveva scritto uno che era stato in campo di concentramento con me e mi sono alzato in piedi e ho scoperto di essere veramente un uomo questo credo che sia il il tratto veramente ingestibile di un di ciò che era accaduto con questa con questa con questa con questa pubblicazione da parte da parte del potere il ripeto il a noi oggi può sembrare può sembrare veramente veramente poco ma questo questo racconto ha cambiato veramente ha contribuito a cambiare la storia la storia dell'unione sovietica e di tante persone che ne erano che ci avevano vissuto martoriate vi voglio leggere solamente un un passaggio che è straordinario il che non parla di ivan denisovic è il è un muratore che rappresenta il carcerato il carcerato medio quello che cerca in qualche modo di sopravvivere senza svendere più la propria dignità dove è possibile però manca qualche cosa è colui che registra tutto ma l'anima della resistenza è un'altra e vi leggo questa pagina perché io la ritengo veramente straordinaria e dice Shukov che è Ivan Denisovich Shukov finiva la sua la sua brodaglia mentre mangiava dice e non si guardava più attorno perché non ce n'era bisogno aveva mangiato quel che gli aspettava e non aveva voglia di nulla eppure non potè fare a meno di osservare che di fronte a lui si era liberato un posto e si era messo a sedere un vegliardo alto I.U.81 ecco questo I.U.81 era la sigla del carcerato e I.U.81 è l'unico personaggio di questo racconto di cui non si sa il nome e tutti gli altri hanno un nome patronimico e via discorrendo I.U.81 invece è completamente sconosciuto e rimarrà completamente sconosciuto ma sentite che cosa che cosa dice era Shukov lo sapevo della squadra della squadra 64 quella che era andata oggi al villaggio socialista al posto della 104 e là per tutta la giornata senza scaldarsi aveva steso i reticolati contro se stessa cioè erano costretti a costruire i reticolati nei quali poi venivano imprigionati si sapeva di questo vecchio che languiva nei campi e nelle prigioni da tempo immemorabile nessuna amnistia lo aveva risparmiato e appena finiva i suoi dieci anni gliene affibbiavano altri dieci ora Shukov lo esaminava da vicino fra tutte le schiene curve egli si distingueva per il portamento eretto e adesso che era seduto pareva che sul suo sgabello ci fosse stato un rialzo sulla sua testa nuda non c'era più niente da radere i capelli gli erano caduti tutti per quella bella vita i suoi occhi correvano qua e là per la mensa ma fissavano qualcosa di invisibile sopra la testa di Shukov mangiava calmo la sua brodaglia acquosa col cucchiaio di legno intaccato e non chinava la testa nella scodella come tutti ma la teneva alta portandosi il cucchiaio alla bocca di denti non aveva più nemmeno uno né sopra né sotto erano le gengive indurite che in mancanza dei denti gli masticavano il pane aveva una faccia estenuata ma non tale da farlo sembrare un invalido ridotto un cencio bensì da dare l'impressione di essere scolpita in pietra dura le sue grosse mani screpolate e nerastre dicevano chiaro che raramente in tutti quegli anni si era fatto dispensare dal lavoro e si vedeva anche se si osteneva rimanere sempre quello di una volta il suo pezzo di pane di Treti non l'aveva messo come tutti gli altri sul tavolo sporco di schizzi di brodaglia ma su una pezza di tela pulita che è il gesto dell'eucaristia della consacrazione dell'eucaristia se ci pensate questo passo è veramente la chiave non solo di questo non solo di questo di questo racconto è la chiave di ciò che è stato possibile mantenere vivo in situazioni come quelle è la chiave che ci fa vedere come dentro l'uomo ci sia qualcosa che non si spezza a meno che l'uomo lo consenta questa figura è veramente è veramente straordinaria e il Olivier Clemant che è un filosofo un teologo francese convertito all'ortodossia la definisce l'icona della dignità umana ed è qualche cosa che può essere compreso veramente se si cerca di penetrare la mente la mente russa che è fatta è formata dalla da un certo modo di pensare da un certo modo di credere da un certo modo di praticare la religione l'universalità scusate apro una piccolissima parentesi ma breve l'universalità di questi grandissimi scrittori è quella di essere radicati nella propria terra non si può comprendere Solzhenitsyn se non si cerca di capire che è uno scrittore russo che è uno scrittore russo convertito dall'ateismo alla religione della sua terra l'ortodossia cioè non si capisce veramente Solzhenitsyn se non si capisce l'ortodossia ma questo essere radicato nella sua terra è ciò che lo rende universale non si può capire Dante se non si comprende che Dante è cattolico romano la sua universalità viene da radicarsi in questo e l'universalità di questo di questo scrittore viene dall'essere radicato nella sua terra nella sua cultura nella fede della sua terra e della sua cultura e questo lo dico perché questa icona della dignità umana è tipicamente russa ortodossa nella visione ortodossa nella pratica della fede ortodossa c'è un grande una grande attenzione al concetto di immagine e somiglianza creiamo creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza che sono due aspetti diversi che si compenetrano l'immagine dell'uomo l'immagine dell'uomo è l'essere simile a Dio cioè quindi l'essere l'essere persona vuol dire secondo la visione ortodossa vuol dire avere un rapporto diretto con Dio e che questo rapporto diretto con Dio ci permette di essere liberi ed è insondabile è qualche cosa di misterioso è qualche cosa che non può essere ridotto a un concetto però l'immagine da sola che ci dà il l'idea di che cosa è la persona che si radica poi nella libertà e qui arriviamo al punto ha bisogno di esercitare questa libertà e la libertà esercitata nel bene cioè nell'essere legato alla grazia è ciò che ci salva ma la libertà dell'uomo è quello che ci porta poi alla somiglianza quindi alla salvezza e alla somiglianza ma può essere esercitato nel male cioè nel rifiuto della grazia e ci porta alla dissimiglianza e quindi quella che ci precipita nel baratro e in questo poi qui mi fermo ma è fondamentale dirlo almeno io lo ritengo in fondamentale dirlo Solzhenitsyn è si mostra in questo fratello di Dostoevsky hanno veramente compreso da due da due versanti diversi che il il problema dell'uomo è quello dell'esercizio della libertà quindi dicevo è fondamentale questo questo aspetto della della somiglianza e della e dell'irriducibilità dell'uomo e della natura alla sua semplice natura e alla sua semplice storia sento così chiaramente dice in Divisitone Cancro un Solzhenitsyn ha scritto anche un altro libro un po' più piccolo ma anche sulla sua esperienza nell'ospedale dove era ricoverato per il cancro quindi dice sento così chiaramente a volte che quello che c'è in me non è tutto c'è qualcosa di indistruttibile di troppo elevato e poi ancora perché in lui parla dell'uomo dice l'uomo non è distruttibile dice un pittore che c'è invece nel primo cerchio dice perché in lui c'è l'immagine della perfezione che in rari istanti tutto un tratto emerge emerge lo sguardo dello spirito quindi è veramente questo che c'è nell'uomo e che Solzhenitsyn ha capito e ha toccato con mano dentro al lager il novecento è sterminato di lager ovunque ma è sterminato anche di persone di uomini che hanno scoperto di essere veramente uomini hanno scoperto Dio stando lì dentro è veramente paradossale forse ma ma neanche tanto perché solamente ridotto in queste condizioni esasperate l'uomo o si spezza o rimane intero e rimane integro e rimane ritto come I.U.81 quindi Solzhenitsyn ritorna dal lager vivo ritorna dal lager redento ritorna dal lager un uomo che crede in qualche cosa di veramente concreto si è sgretolato tutto l'apparato tutto l'apparato l'apparato ideologico tutto l'apparato culturale che aveva attorno e capisce che deve testimoniare tutto questo deve raccontarlo ma lo fa attraverso il e io credo che questo sia per chi di lavoro scrive credo che sia una lezione straordinaria nel la quercia il vitello che è una raccolta di saggi anche questa alta alta così ma che se vi capita di leggere sono saggi che si che si possono leggere anche slegati l'uno dall'altro ce n'è uno il primo quello che apre il volume che si intitola scrittore clandestino e lui dice che cosa ha capito negli anni immediatamente successivi al Lager su quello che avrebbe dovuto fare dice senza esitazione senza sdoppiamenti avevo sposato la sorte dello scrittore russo contemporaneo preoccupato della verità bisognava scrivere unicamente perché tutto questo non venisse dimenticato perché un giorno lo sapessero i posteri quanto ad essere pubblicato in vita a ciò non dovevo neppure pensare neppure accarezzarne il progetto soppressi dunque ogni oziosa fantasia in cambio avevo soltanto la certezza che la mia fatica non sarebbe stata sprecata che avrebbe colpito le teste a cui mirava sarebbe stata recepita da coloro cui era diretta come una corrente invisibile mi ero rassegnato a tutta una vita di silenzio come ci si rassegna a subire la forza di attrazione terrestre che ci tiene incatenati per tutta la vita mentre terminavo un'opera dopo l'altra nel Lager durante la deportazione anche dopo riabilitato prima versi poi commedia e infine anche prosa mi curavo unicamente di una cosa conservarle in segreto e me stesso insieme ad esse allora questo lo dice un uomo che è diventato poi premio nobel per la letteratura nel 1970 lo dice un uomo che è stato conosciuto da tutti che è conosciuto in tutto il mondo eppure io credo che nonostante tutto questo la vera grandezza e il vero animo con cui noi dobbiamo leggere Solzhenitsyn per comprenderlo oggi per fare in modo che oggi ci dica ancora quello che stava dicendo allora perché noi non stiamo vivendo un momento molto diverso nel ora da quello che vivevano i sudditi dell'Unione Sovietica Solzhenitsyn ci parla di noi oggi ci parla di noi oggi e ci parla di noi oggi con questo con questo con questo animo qui quello dello scrittore che deve tenere nascosto tutto e farlo conoscere a chi lo merita a chi lo comprende guardate che è straordinario questo il questo ha fatto in modo io credo che la grandezza di Solzhenitsyn e la sua popolarità venga proprio da questo dal fatto che ognuno di noi ognuno di noi non ha ricevuto una coppia di quello che lui ha scritto ognuno di noi ha ricevuto può ricevere il singolo manoscritto di ciò che lui ha prodotto e quindi instaurare un legame di amicizia di solidarietà di fratellanza che è inestirpabile nel suo modo di concepire la scrittura quindi lo scrivo per tenerlo segreto lo ripeto conservarli in segreto e me stesso insieme ad esse cioè Solzhenitsyn si è opposto alla tecnologia della scrittura che è la riproduzione delle stesse cose che più vengono riprodotte meno valgono cioè Solzhenitsyn ha fatto in modo che chiunque legga le sue pagine oggi ieri domani ricavi qualche cosa che lo mantiene vivo io ripeto leggiamolo oggi perché la letteratura concentrazionaria ci spiega quello che sta accadendo persone come Solzhenitsyn sono capaci di spiegare come uscire il che cosa dobbiamo conservare per uscire come uscirne e cosa fare poi quando quando se ne sarà usciti quindi lavora a queste opere in questo modo che ho detto nel frattempo divorzia dalla prima moglie e nel 1973 poi si sposerà con Natalia Dimitrievna quindi la moglie quella che poi ha avuto fino alla fine della sua vita nel 1969 siccome Khrushchev e quel nuovo corso aveva perso la partita cade la stella quindi di Solzhenitsyn che ha pubblicato nel frattempo altri racconti uno lo vediamo in chiusura è uno credo forse il suo più bello uno dei più belli del novecento in assoluto il 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 1969 viene espulso dall'unione degli scrittori dell'unione sovietica l'otto ottobre del 1970 gli viene conferito il Nobel per la letteratura che lui non va a Stoccolma a ritirare diciamo non partecipa alla cerimonia di consegne a Stoccolma per timore di non poter rientrare nella sua patria che continuava comunque a essere la sua patria prepara per comunque per il discorso per il Nobel un discorso che diventa famosissimo non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio ma è un discorso nel quale richiama più volte Dostoevsky e riprende e spiega quell'immagine che spesso viene distorta in Dostoevsky la bellezza salverà il mondo che è un concetto che viene spesso in un modo diverso da Dostoevsky in uno dei suoi più grandi romanzi che è l'idiota il Solzhenitsyn spiega che cosa secondo lui vuol dire che cos'è la bellezza che salverà il mondo che poi è Cristo in buona sostanza le sue opere sono la stesura delle sue opere è travagliatissima ma lui è costretto a spostarsi da un punto all'altro del paese per poter sfuggire alle persecuzioni devono nascondere i manoscritti se li deve ricordare la memoria cosa che aveva imparato a fare durante i campi di concentramento durante i campi di concentramento aveva scritto dei poemi di 11.000 versi che aveva imparato e teneva a memoria tra l'altro utilizzando un rosario fatto opposto che gli avevano regalato dai cattolici quindi è veramente un momento difficilissimo la persecuzione torna a essere praticamente la stessa di quella dei tempi di Stalin nel 1973 addirittura si suicida una delle chiamiamole segretarie una delle persone con cui a cui lui aveva affidato il manoscritto c'erano due manoscritti di archipelago Gulag li aveva affidati a due persone diverse e una Isaveta Voronskaya arrestata dalla polizia politica trattata come abbiamo detto prima rivela dove è nascosto uno dei manoscritti quando viene quando viene rilasciata per la disperazione a cui la porta l'idea che archipelago Gulag possa andare perso la porta a suicidio quindi questo è il mondo nel quale nel quale si viveva nel frattempo però archipelago Gulag esce alla fine del 1973 prima in Francia poi il primo volume poi esce in Inghilterra poi esce anche in Italia il primo volume Solzhenitsyn era già conosciutissimo era premio Nobel quindi 1970 per divisione Cancro per altre opere era stato premiato l'arcipelago Gulag era tenuto lì in attesa che potesse essere pubblicato nell'Unione Sovietica quando è evidente che questo non è possibile e che comunque le copie stanno cominciando a sfuggire di mano Solzhenitsyn accetta che venga pubblicato all'estero fine 1973 nel 1974 il 12 febbraio viene arrestato ed espulso dall'Unione Sovietica quindi va in prima lo portano in Germania poi si trasferisce in Svizzera ad Eric Ball che era uno scrittore suo amico che lo accoglie viene incontra tutta una serie di altri personaggi che gli sono affezionati nel dicembre del 1974 riesce a partecipare a Stoccolma alla cerimonia di consegna per il Nobel dove pronuncia quel discorso che abbiamo detto prima poi nel 1976 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti a Cavendish nel Vermont quindi questa è anche qui l'ho riassunta nel modo più brutale più brutale possibile questa fase ma perché adesso bisogna parlare un po' di archipelago gulag un pochino però bisogna dire alcune cose alcune cose fondamentali prima Dario ha detto il Solgenizi non ha parlato solo del comunismo non è che semplicemente ha denunciato il comunismo ha fatto veramente qualche cosa di più perché guardate che cosa fosse il comunismo sovietico non il comunismo in generale lo si sapeva benissimo negli anni tra gli anni 20 e gli anni 30 in occidente erano uscite 60 70 libri che parlavano di ciò che stava accadendo in Unione Sovietica bastava leggere le opere di Lenin per capire che cosa stesse accadendo nell'Unione Sovietica non serviva niente a capire di più di ciò che già c'era non lo si voleva capire ma era possibile farlo però il Solgenizi fa molto di più intanto parla della modernità spiega Solgenizi spiega che cosa viene prodotto dall'ideologia credo che non ci sia ideologia più ideologica più perfetta più devastante di quella messa in atto in Unione Sovietica e dai paesi comunisti in generale Solgenizi purtroppo per lui ma forse anche per fortuna per lui per fortuna per noi è stato lì dentro e l'ha vista dall'interno e dice una cosa in in Arcipelago Gulag spiega che ciò che ha reso unico quel periodo e che comunque rende unica qualsiasi poi ideologia è l'unione tra l'ideologia appunto l'idea e la malvagità nelle opere di Shakespeare ci sono i malvagi ci sono i cattivi però sono adesso magari la dico grossa ma cioè rispetto a quelli che poi vediamo invece all'opera nel mondo dell'ideologia sono cattivi da operetta Macbeth è cattivo però poi muore del suo essere cattivo Iago si dispiace di essere così cattivo lo sa lo sa sa di esserlo e gli dispiace veramente tanto di esserlo e che cosa producono i malvagi di Shakespeare ma dell'altra letteratura qualche decina di morti Sol Gediz dice come è possibile allora che altri malvagi invece che qualche decina di morti ne abbiano prodotto qualche decina di milioni che strumento avevano l'ideologia perché l'ideologia è la tecnologia applicata all'idea la tecnologia applicata al pensiero e la tecnologia applicata al pensiero applicata all'idea presuppone che sia possibile soltanto avere delle copie cioè gli uomini possono essere soltanto delle copie del prototipo stabilito dall'ideologia non ci può essere niente di diverso se qualcosa è diverso vuol dire che è rotto che è uscito male e che quindi deve essere spazzato via deve essere buttato via deve essere cancellato l'ideologia è precisamente questa roba qua l'ideologia è lo strumento che mi permette che mi permette di stabilire chi si salva e chi muore l'ideologia è lo strumento e ripeto sempre strumento che mi permette di stabilire chi è buono e chi è cattivo l'ideologia è lo strumento che mi permette di stabilire chi è con me e chi è contro di me senza nessun tipo di digradazione senza nessuna possibilità di sfumatura le copie devono essere tutte uguali perché sono prodotte tutte dalla stessa macchina dalla stessa macchina che è stata prodotta da un'idea infatti dice anche Iago dice parlando di Shakespeare è un agnellino la fantasia e le forze spirituale dei malvagi sospiriani si limitavano a una decina di cadaveri perché mancavano di ideologia l'ideologia è lei che offre la giustificazione del male che cerchiamo e la duratura fermezza corrente al malvagio occorre la teoria sociale che permetta di giustificarsi di fronte a noi stessi e agli altri di ascoltare non rimproveri non maledizioni ma lodi e omaggi così gli inquisitori si facevano forti con il cristianesimo i conquistatori con la glorificazione della patria i colonizzatori con la civilizzazione i nazisti con la razza i giacobini i vecchi e nuovi con l'uguaglianza la fraternità la felicità delle future generazioni grazie all'ideologia è toccato al secolo XX sperimentare una malvagità esercitata su milioni di persone la malvagità è inconfutabile non può essere passata sotto silenzio né scansata come oseremmo insistere che i malvagi non esistono chi annientava quei milioni senza malvagi non sarebbe esistito l'arcipelago ecco nell'arcipelago gulag sono passati 20 milioni 20 milioni di russi di sovietici di cittadini sovietici e ne sono morti almeno 3 milioni perché l'altro aspetto impressionante del comunismo sovietico dell'ideologia sovietica che mette in evidenza che mette in evidenza Solgenitzin è quello dell'odio per il proprio popolo cosa mai avvenuta al di fuori dell'ideologia comunista ovunque arrivi il potere il potere dell'ideologia comunista si applica alla sterminazione del proprio popolo si applica allo sterminio di chi gli è soggetto è una roba veramente impressionante ma è così quindi i malvagi esistevano anche qui bastava leggere se uno legge nei discorsi di Lenin dice parla di aveva parla di insetti nocivi quando parla di nemici del popolo e quando uno è un insetto nocivo viene ammazzato viene schiacciato ciò che non corrisponde all'idea viene eliminato vi leggo ancora un passo breve perché quello che vi dico non è merito mio ma l'ho studiato qui le finezze giuridiche non occorrono è Crilenco che parla le finezze giuridiche non occorrono perché non occorre chiarire se l'imputato sia colpevole o innocente il concetto di colpevolezza vecchio concetto borghese è stato adesso radicato dunque abbiamo sentito dire al compagno Crilenco e qui è Solgenizzi che parla che il tribunale non è quello di una volta altrove sentiremo dire che un tribunale non è in generale una corte aperte le virgolette Crilenco che parla un tribunale è un organo della lotta di classe degli operai diretta contro i loro nemici e deve funzionare dal punto di vista degli interessi della rivoluzione tenendo conto dei risultati più aspicabili per le masse operaie e contadine gli uomini non sono uomini ma determinati portatori di determinate idee quali che siano le qualità individuali gli si può applicare un unico metodo di valutazione ed è quella fatta dal punto di vista della convenienza di classe ripeto questa è l'ideologia che vediamo all'opera qui oggi basta sentire parlare chiunque al di fuori di questa stanza e ci troviamo sicuramente scopriamo di essere in un mondo nel quale tutto questo viene applicato alla lettera perché se uno non pensa quello che dovrebbe pensare secondo l'ideologia imperante è considerato uno che se viene mandato in ospedale perché è malato deve morire perché deve morire deve morire comunque anche se non è malato questa è l'ideologia applicata all'oggi però l'ideologia riesce e può diventare tale solamente se accompagnata da un di più non basta essere dei bravi militanti del partito per arrivare fino a questi gradi di applicazione dell'idea è serve la menzogna il serve la menzogna il è la menzogna che descrive che descrive che descrive che descrive solgenizi poi vedremo un minimo nel dettaglio uno dei suoi scritti più 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 profetici e comunque che continua ad essere una guida che è vivere senza menzogna che è uno scritto molto breve che pubblicò nel 1973 uscì il giorno dopo il suo arresto il 13 febbraio serve la menzogna ma la menzogna cioè non è la menzogna alla quale magari siamo abituati anche noi italiani cioè quella un po' machiavellica io per governare dico il falso ma so che è falso però lo dico perché mi conviene questo tipo di menzogna qua cioè non è che l'altra sia incommiabile ma questo tipo di menzogna quello che rende l'ideologia definitivamente ideologica perdonatemi un po' il bisticcio di parole è qualche cosa di metafisico che non è neanche il contrario della verità la menzogna di cui parla Solgenizzi è non verità è qualche cosa che corrode da dentro chiunque la pratica cioè fa in modo che chiunque la pratica chiunque ne è ha servito chiunque la utilizza chiunque la serve sia in qualche modo sempre meno uomo sempre meno umano in modo tale che poi non sia praticamente più umano e gli sia possibile cancellare dalla faccia della terra chiunque anche il proprio padre la propria madre i propri figli l'unione sovietica di quegli anni di quei decenni era questo era fatta di famiglie che erano devastate dalla delazione cioè si abitava in un condominio si sentiva la GPU o l'NKVD che non bussavano ma spaccavano le porte con i calci dei fucili con i calci di mitra e non si sapeva chi avrebbero portato via dove l'avrebbero portato cosa ne sarebbe stato non si sarebbe se il giorno dopo sarebbe toccato a noi che eravamo lì perché magari chi aveva portato via per salvarsi per con l'illusione di salvarsi denunciava il vicino di casa il parente l'amico il fratello il quindi cerchiamo veramente di renderci conto di dove di dove di dove di dove si viveva quindi la menzogna diventa potere ed è il potere del niente ripeto non della verità capovolta perché la verità capovolta in qualche modo ha un ordine la menzogna invece non ce l'ha la menzogna è disordine anche se si presenta sotto una forma di apparato ordinato dentro è completamente disordinata dentro è il male è non verità e come come si può resistere a tutto questo l'abbiamo visto prima l'icona della dignità umana U81 in Arcipero Bulag fa un paio di esempi un paio di esempi Solgenitzin poi arriviamo verso la fine ma che sono che sono interessanti anche uno anche dato il personaggio eppure dice si parla di un processo siamo negli anni negli anni 20 nel 1922 per la precisione e si parla del processo che veniva fatto a Berdy Haif che era un filosofo famosissimo e una serie di suoi amici dice pure al momento del processo sono riusciti a trasformare in marionette la cerchia di Berdy Haif ma non lui in medesimo lo volevano processare fu arrestato due volte lo portavano all'interrogatorio notturno da Dersischi dove c'era anche Kamenev ma Berdy Haif non si umiliò non si profusi suppliche espose con fermezze i principi religiosi e morali in virtù dei quali non accettava il potere che si era instaurato in Russia e non solo fu riconosciuto inutile processarlo ma lo liberarono l'uomo aveva un punto di vista proprio e questo che ci ci permette di resistere cioè avere un punto di vista nostro avere un punto di vista nostro e non venderlo non dico neanche svenderlo non venderlo Nina Strolayova ricorda una sua vicina nella prigione di Butrichi nel 1937 una vecchina la interrogavano ogni notte due anni prima un metropolita fuggito dalla deportazione di passaggio a Mosca aveva pernotato da lei mica un ex metropolita ma che uno vero metropolita era un vescovo sì avete ragione ho avuto l'onore di ospitarlo bene e da chi andò poi partendo da Mosca lo so ma non lo dirò il metropolita era fuggito in Finlandia con l'aiuto di una catena di fedeli i giudici struttori si alternavano si riunivano gruppi minacciavano la vecchina con i pugni e lei è inutile non mi farete dire nulla anche se mi faceste a pezzi voi avete paura dell'autorità avete paura l'uno dell'altro avete perfino paura di ammazzare me perché avrebbero perduto la catena io invece non ho paura di nulla sono pronto a presentarmi davanti al Signore anche subito qui ci sono due cose straordinarie una è questa della sono pronto a presentarmi davanti al Signore anche subito e non ho paura e l'altra che secondo me va sempre tenuta presente in queste situazioni dice voi avete paura di tutti avete paura l'uno dell'altro e questo quando parlavo prima del disordine che governa la menzogna è proprio questo perché la menzogna è tenuta viva se si può utilizzare questo termine artificiosamente artificialmente da poteri che confliggono che non possono all'eterno continuare a girare in un meccanismo oliato e perfetto quindi dicevo prima nel 1974 nel febbraio Solzhenitsyn pubblica fa uscire in quel manifesto che si intitola Vivere senza menzogna non sto a non sto a a raccontarvelo tutto e non sto a non sto a riassumerlo però ci sono un paio di passaggi che sono che sono fondamentali uno è quello del che credo sia credo sia sia fondamentale che è quello del vivo nel luogo della menzogna la menzogna può anche governare ma non con il mio consenso e credo che questo sia un insegnamento fondamentale ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé e continueremo tutti ogni giorno ad accettarlo ossequiarlo consolidarlo se non respingeremo almeno la cosa a cui è più sensibile se non respingeremo la menzogna ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione una chiave che abbiamo trascurato e che è pure tanto semplice e accessibile il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna anche se la menzogna ricopre ogni cosa anche se domina dappertutto su un punto siamo inflessibili che non domini per opera mia uomini e chi non avrà avuto il coraggio di difendere la propria anima dice più avanti non ostenti le sue vedute d'avanguardia non si vanti di essere un accademico o un artista del popolo o un generale si dica invece semplicemente sono una bestia da Soma è un codardo mi basta stare al caldo e a pancia piena questi sono gli uomini che hanno veramente qualche cosa da dirci qualche cosa da darci quindi questo è l'uomo che nel 1976 poi si trasferisce negli Stati Uniti e anche qui la vita non è facilissima pensavano di avere trovato di avere trovato il pupazzo da mostrare a tutto l'Occidente per fare la propaganda contro il comunismo sovietico ma nel famoso discorso di Harvard del 1978 anche questo non si trova facilmente non vi leggo nessun passo di tutto questo ma mette in questo discorso mette sotto accusa sostanzialmente tutto il mondo occidentale liberale nato dice espressamente dall'umanesimo sbertuccia la finta libertà di stampa dell'Occidente spiega come e perché l'Occidente è privo di qualsiasi coraggio e a un certo punto quando a un certo punto dice quasi testualmente forse voi vi chiederete se io possa consigliare ai miei connazionali un sistema di vita un sistema sociale come il vostro ebbene no io credo che questo ebbene no sia il 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 suggello veramente del della vita dell'opera di Solgenizi che lo disse lo pronunciò in una delle università più prestigiose del paese che lo ospitava e e lo disse con una forza e una convinzione credo credo inarrivabili ebbene no io penso che che sia rimasto nelle coscienze di molti che allora lo ascoltarono e che poi e che poi lo lessero per arrivare a conclusione il ancora due due cose nel 1994 Solgenizi torna in in Russia a questo punto non è più l'unione sovietica e il il viaggio di ritorno parte dalla Siberia dalla terra di Kolima che era il 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 luogo il luogo del dei lager che erano distribuiti su tutto su tutto il paese ma in particolare quella zona quella zona il quella zona era disseminata di di campi di concentramento che ne facevano proprio un vero proprio arcipelago erano sostanzialmente delle isole di disperazione che diventavano che diventavano un arcipelago viaggia in treno dalla Siberia fino a Mosche viaggia dura tantissimo perché fa un sacco di tappe dove lui si ferma a parlare con tutti si scontra anche già con tutta una serie di con tutta una serie di personaggi che proprio l'avrebbero l'avrebbero contrastato e dice e dice e dice questa cosa molto bella della quando arriva quando arriva in aereo a terra Magadan che era il diciamo la capitale dell'arcipelago Gulag e dice minchino questa terra di Colima nella quale sono sepolti centinaia di migliaia se non milioni di nostri compatrioti ingiustamente condannati oggi nel ribollire delle contingenti trasformazioni politiche si tende con leggerezza a dimenticare quei milioni di vittime e che lo facciano coloro che non sono stati toccati da tanto sterminio si può anche capire ma che dire di coloro i quali se ne sono resi responsabili eppure le radici della nostra attuale rovina vengono proprio da lì secondo le antiche credenze cristiane la terra che accoglie martiri innocenti viene da essere resa santa e tale la considereremo nella speranza che proprio nella regione di Colima si manifesti la luce di una futura guarigione della Russia è importante questo passaggio che può sembrare retorico in realtà è molto intriso di religiosità ortodossa russa questo legame con la terra santa questo legame con le reliquie che è tipico dell'ortodossia e una terra come questa è una terra dove si cammina sopra le reliquie cioè dove si cammina sopra la santità di chi ha versato il sangue per non aver abbassato la testa cioè per vivere per poter vivere senza senza menzogne da dove viene tutto tutto questo il uomo con Solzhenitsyn è multiforme è complesso è stato travisato perché poi tutti hanno cercato di prenderne un pezzetto e di farlo e di farlo proprio in realtà quest'uomo era un uomo di una semplicità estrema ed è proprio per questo motivo è riuscito a non farsi trascinare da nessuno viene dalla da quella religiosità che dicevamo prima che probabilmente anzi che lui dice aveva da bambino e che poi aveva perso e viene da questa da questa fede che in qualche modo ha sempre avuto dentro e che poi ha scoperto essere veramente il senso della sua vita di essere ciò che dava veramente la forma alla sua vita e c'è un racconto che uscì sempre su Novimir poco dopo una giornata di Ivan Denisovich che si chiama La casa di Matriona si trova in questo in questo libro ha per la maggior parte una giornata di Ivan Denisovich e poi ha due altri racconti uno alla casa di Matriona e l'altro alla stazione il io credo che il la casa di Matriona anzi tolgo il credo per a mio giudizio la casa di Matriona è forse il il racconto più straordinario del novecento perché nella nella sua nella sua brevità riesce veramente a tirar fuori l'anima di un uomo dell'uomo che lo scrive l'anima del popolo che in qualche modo lo ha prodotto e l'anima del popolo a cui quest'uomo che scrive sta parlando e proprio questo suo essere radicato in quel in quel luogo piccolissimo che adesso vediamo lo rende universale la protagonista meglio la coprotagonista di questo racconto è Matriona che è una 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 vecchia contadina che è una reietta che è scansata da tutti nessuno vuole avere a che fare con lei perché oggettivamente vive in una casa che è piena di scarafaggi vive dove ci sono i topi dove c'è sporcizia dove non c'è praticamente niente di bello però c'è intimità e l'unico che in qualche modo riesce a capire almeno questo inizialmente è un ex deportato che è mandato al confino e che trova alloggio da lei un insegnante che è sostanzialmente l'alter ego di Solgenizzi nel corso del racconto viene spiegato come questa donna veramente è un insipiente non è neanche una donna palesemente almeno visibilmente di grande fede prega prega pochissimo chissà se va alla liturgia non si sa però incarna un tipo di santità questo tipicamente russo che è quello dei folli in Cristo gli erudovie la follia in Cristo è diffusa nell'ortodossia in generale oggi tra l'altro il calendario ortodosso ricordo a San Giovanni Calabita che è un folle in Cristo morì a 25 anni dopo aver vissuto per anni e anni da 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 barbone fuori dalla casa dei suoi genitori che erano dei ricchi e i genitori non l'avevano riconosciuto lo riconoscono lo riconoscono solo alla fine perché lui vuole perché gli mostra il il vangelo che loro gli avevano regalato quando era piccolo però la follia in Cristo poi è tipica della è tipica della Russia la cattedrale di San Basilio di Mosca non è dedicata a San Basilio il grande è dedicata a San Basilio il benedetto che era un folle in Cristo che uno è colui che osò è opporsi a Ivan il Terribile quindi c'è questa tradizione che corre lungo tutta questa questa terra e questa anima e Matriona alla fine vedremo è esattamente questa cosa quindi pensate che nel corso del racconto aiuta i parenti che vogliono portarle via la casa e la sua baracca li aiuta a smontare la propria casa per per dargliela perché pensa che sia giusto fare così o perché non riesce ad opporsi ma perché questa è la sua vita e sa che lei è l'ultima degli ultimi fino a quando poi poi muore e il racconto si chiude in questo modo qua dice tutti i suoi giudizi su Matriona si parla della gente che andava per casa erano di disapprovazione era sporca non si curava delle masserizie non era economa non teneva neppure il maiale non le piaceva allevarlo chissà perché e stupida aiutava gli estranei senza compenso e il motivo stesso di ricordare Matriona venne meno non c'era nessuno da chiamare per l'apertura per la ratura dell'orto persino della cordialità e semplicità di Matriona che la cognata le riconosceva essa parlava con sprezzante commiserazione e soltanto allora da questi giudizi di disapprovazione della cognata mi emesse dinnanzi l'immagine di una matriona che non avevo compreso persino vivendo a fianco a fianco con lei davvero ogni isba aveva le sue maiale ma lei non lo aveva che cosa c'è di più facile che allevare un porcellino avido che al mondo altro non riconosce che il cibo fagli il pastone tre volte al giorno vivere per lui e poi scannarlo e avere il lardo ma lei non lo aveva non si curava delle masserizie non si affannava a comprare le cose per poi costudirle più che della propria vita non si curava dei bei vestiti dei vestiti che abbelliscono i nostri i mostri e i ribaldi non compresa e abbandonata persino dal marito estranea alle sorelle e alle cognate ridicola pronta a lavorare stupidamente per gli altri senza compenso essa che aveva sepolto i sei figli ma non l'indio e le sue socievole non aveva accumulato averi per il giorno della morte la capra color bianco sporco il gatto zoppo i ficus li eravamo vissuti accanto tutti e non avevamo compreso che era lei il giusto scritto con la maiuscola senza il quale come dice il proverbio non esiste il villaggio né la città né tutta la terra nostra il tra l'altro c'è un secondo me straordinario e non voglio neanche commentarlo però c'è una cosa importante qui in questi ultimi passaggi era il giusto senza il quale come dice il proverbio non esiste il villaggio Solgenizzi usa spesso tantissimi proverbi quando deve enunciare una verità come questa che è fondamentale usa un proverbio perché aveva capito diceva che il proverbio è il il buon senso del del popolo sano provato dalla tradizione credo che il sia giusto finire così perché io credo che questa sia veramente l'anima di quest'uomo che ci ha insegnato cioè molto più di tutto questo io ho detto ho detto veramente pochissimo vorrei solamente finire con questa definizione di Solgenizzi ne ho cercate molte e non nessuna però mi ha mi ha gradato come questa che è di una scrittrice che mi è che mi è molto cara che è Cristina Campo un'altra figura che andrebbe studiata e che andrebbe compresa e dice Solgenizzi in oggi è qualcosa che ti fa piegare le ginocchia l'espressione non è mia ma è lui l'apostolo del domani lui così antico e immemoriale quasi un animale preistorico nell'universale frenesia di tutte queste scimmie impazzite con elettrodi nel cervello possedute da ossessioni terrori e immagini che farebbero chinare gli occhi per la vergogna a qualsiasi animale qui appare Solgenizzi con quel volto mortalmente serio immensamente casto totalmente appassionato e soprattutto libero dalla paura contemporanea di mostrarsi così e di colpo si dice to un uomo grazie grazie